Il segreto, puntata lunedì 14 agosto 2017, Ernando sotto le macerie, anticipazioni, Camilla subisce un'aggressione da Nest il quale, successivamente, causerà un crollo nei sotterranei dove, Mattias ed Ernando, stanno ispezionando le canalizzazioni dell'acqua, Francisca, incaricata da Cristobal, cerca di convincere Reimundo ad accettare la proposta di quest'ultimo, Ulloa spera così di poter aiutare Alfonso ed Emilia, intanto, alla Miela Amarga, durante la veglia funebre per Mencia, Carmela aggredisce Onesimo, ma viene prontamente fermato da Severo e Lucas, prima parte, vedovo inconsolabile, proprio quando era in procinto di partire per la luna di miele, Mencia viene accoltellata alla stazione, per lei non c'è niente da fare, e dell'amore fra le braccia di Carmelo, l'uomo inconsolabile, e come lui o Santa Cruz, l'unica persona ad essere contenta per la tragedia è, neanche a dirlo, Francisca, le trame e il segreto rivilano che durante la veglia funebre il vedo Von Lille si scaglierà con Tonnesimo, quest'ultimo, intanto, convinto di essere in punto di morte, comincia ad interessarsi alle arti occulte e si dedica, all'insaputa di tutti, ad uno strano rito cileno, seconda parte, amnesia momentanea, in questa puntata della telenovilla spagnola vedrete che Emilia, dopo essersi risvegliata la villa con indosso un abito che certamente non era quello che aveva durante la cena, teme di essere stata violentata da Cristobal, la figlia di Raimundo, a causa del potente narcotico che le è stato somministrato, ha continui capogiri e non riesce a ricordare bene cosa è accaduto, per questo motivo Enla non si spiega perché si si è ritrovata spogliata dei suoi vestiti, ultima parte, la vendetta di Nestor, Ernando, dopo aver scoperto che Camila Valdesalce è la sorella di Gabriel Mella, pretende spiegazioni su questa incredibile verità e decide per questo motivo di parlare con la moglie, una serie di imprevisti non gli permette di trovare l'occasione giusta per poter parlare con lei, nel frattempo Nestor, dopo aver provocato un crollo nei sotterranei, si recca nottetempo nella stanza di Camila e chiude la porta chiave, avrà cattive intenzioni?